Il decreto enti locali va modificato, lo chiedono Lega Autonomie Molise e la provincia di Campobasso. I mutasi, sicurezza nei trasporti, piano investimenti, manutenzione, finanza delle province, fondo per equativo sono i temi cardine su cui Filippo, Poleggio e Rosario De Mattessi sono soffermati. Urge un cambio di rotta per evitare tracolli. Le criticità stanno nell'incertezza del futuro degli enti locali. Per quanto riguarda i comuni, le restrizioni sempre maggiori e quindi la difficoltà nel garantire le prestazioni di servizi essenziali ai cittadini. E però il decreto, durante il leader parlamentare, ha avuto dei miglioramenti. Noi sottolineiamo ancora la necessità di maggiore flessibilità per quanto riguarda la possibilità di investimenti, quindi allargamento del patto di stabilità. La situazione più critica è quella delle province. Chiediamo che ci sia un intervento straordinario e in particolare quello che riguarda un piano generale della viabilità. La provincia di Campobasso ha approvato il bilancio, ma i problemi sul tappeto restano e le misure adottate sono solo tampone. Da tempo che chiediamo maggiori risorse per le province. Alla luce di quello che sta accadendo, la riforma del Rio è un fallimento perché si stanno accorgendo che i servizi non funzionano, che le risorse non ci sono e che soprattutto si aggrava la spesa per quanto riguarda il dimezzamento dei dipendenti, che comunque andranno ad altri enti e hanno lo stesso costo, se non di più, come è avvenuto nella regione Veneto. Adesso che cosa chiedete? Noi chiediamo una maggiore sensibilità verso le problematiche delle province. Non è concepibile che nel 2016 ci sarà un ulteriore taglio di 2 miliardi di euro e nel 2017 3 miliardi. È assurdo, pare che si stiano rendendo conto di quello che hanno fatto e vorranno correre ai ripari. Noi abbiamo potuto chiudere il bilancio grazie alla rinegoziazione dei muti, ci è stata data questa possibilità. Però ripeto, è un bilancio striminzito che non ci consente comunque, ci consentirà di garantire il riscaldamento nelle scuole, lo sgombro neve, però per quanto riguarda la viabilità i problemi ci sono, lo sfalcio dell'erba, quindi è un bilancio che ci consente di sopravvivere.